Ciao, nel video di oggi andiamo a realizzare insieme un vestitino per bimba all'uncinetto. Per il progetto di oggi sto utilizzando un filato di cottone e per come si vede ho unito due fili insieme è un cotone numero 8 per cui messi insieme si può lavorare con uncinetto numero 3. Ho utilizzato il bianco e il celeste per dare quell'effetto variegato ma se voi volete utilizzare un unico filo allora scegliete un filato che richiede l'utilizzo di ferro da 2,5 mm a 3 mm e la lavorazione ovviamente la faremo con uncinetto numero 3. E adesso andiamo ad avviare le nostre catenelle per la taglia 3-4 anni bisogna avviare 80 catenelle. In queste 80 catenelle le 3 catenelle di ritorno sono già incluse. Dopo aver realizzato le 80 catenelle iniziamo la prima riga in cui prepariamo il lavoro per gli aumenti raglan. Per fare la maglia alta perché si lavorerà soltanto a maglie alte entrerò con l'uncinetto nella quarta catenella partendo dall'uncinetto. Le 3 catenelle ovviamente fanno da maglia alta per cui nelle prossime 12 catenelle andrò a fare una maglia alta con le 3 catenelle iniziali diventeranno 13. Ho già fatto una maglia alta adesso faccio la seconda la maglia alta per cui nelle prossime 12 catenelle. 4 5 6 6 7 8 9 10 11 12 e 12. Vi ricordo che con le 3 catenelle iniziali abbiamo 13 maglie alte per cui contate per avere un totale di 13 maglie alte per questa taglia ovviamente. perfetto e adesso facciamo 2 catenelle e poi nelle prossime 13 catenelle faremo una maglia alta per avere un totale di 13 maglie alte 1 2 finito di lavorare le 13 maglie alte che praticamente saranno la prima manica andiamo a fare di nuovo 2 catenelle e poi nelle prossime 26 catenelle faremo una maglia alta per avere un totale di 26 maglie alte e finito di lavorare anche le 26 maglie alte che sarà praticamente la parte del davanti andiamo a fare di nuovo 2 catenelle e poi andiamo a lavorare la seconda manica e nelle prossime 13 catenelle faremo una maglia alta. dopo aver realizzato anche le 13 maglie alte della seconda manica facciamo di nuovo 2 catenelle e nelle prossime nelle ultime 13 catenelle faremo una maglia alta che sarà la metà della parte di dietro ed ecco come si presenta il tutto dopo aver lavorato la riga iniziale e adesso iniziamo facendo gli aumenti nei spazi che si sono creati facendo le 2 catenelle per cui iniziamo la righe da questo punto in poi per capire il numero totale di righe che dobbiamo aumentare per iniziare la riga giriamo il lavoro e facciamo una maglia bassa esattamente nella maglia sottostante invece di fare le 3 catenelle facciamo così e poi 2 catenelle ma se vi trovate meglio con le 3 catenelle potete fare le 3 catenelle iniziali vedete voi per cui è un opzional questo e da ora in poi faccio lavoro a maglia alta in ogni maglia di base fino ad arrivare al primo spazio in cui farò l'aumento raglan grazie ed eccomi arrivata al primo spazio in cui faremo l'aumento raglan per fare l'aumento raglan entrerò con l'uncinetto nello spazio farò una maglia alta 2 catenelle e di nuovo una maglia alta nello stesso spazio e questo è l'aumento raglan che lo andremo a ripetere in ogni spazio che si è creato facendo le 2 catenelle ma adesso stiamo arrivando dobbiamo lavorare la prima manica per cui le maniche le maglie alte li lavoreremo in modo diverso soltanto nelle maniche li lavoreremo a maglie alte in rilievo da dietro invece la parte del davanti la parte di dietro si lavorerà normalmente per fare la maglia alta in rilievo da dietro non entrerò con l'uncinetto così ma entrerò da dietro per come si vede qui e passo davanti alla prima barettina chiamiamola così o piedino infilo l'uncinetto in questo modo prendo il filo lo passo e lo porto dietro per poter lavorare la maglia alta e praticamente si creerà questo effetto in rilievo e adesso faccio lo stesso per tutte le altre maglie li lavoro entrando con l'uncinetto dalla parte di dietro passo l'uncinetto davanti alla maglia prendo il filo e lo porto dietro per poter lavorare la maglia alta normalmente per cui se non siete tanto abituati a realizzare questo genere di maglia alta in rilievo potete tranquillamente lavorare le maglie alte normali soltanto che non avrete più quell'effetto che avete visto nel vestitino ma questo ovviamente ci si può adattare io continuerò in questo modo lavorando le maglie alte in rilievo da dietro fino ad arrivare al prossimo spazio in cui farò di nuovo l'aumento raglan grazie dopo aver lavorato la prima manica faremo il secondo aumento raglan che come vi ricordo si farà in questo spazio per cui farò una maglia alta 2 catenelle di separazione e di nuovo una maglia alta nello stesso spazio dopodiché le altre maglie lavare maglie della parte del davanti si lavoreranno a maglia alta normale ok adesso andrò a fare il terzo aumento raglan per cui faccio di nuovo una maglia alta 2 catenelle e di nuovo una maglia alta nello stesso spazio dopodiché devo lavorare la seconda manica vi ricordo che la manica le maglie alte si lavoreranno in rilievo da dietro esattamente come vi ho fatto vedere prima entro con uncinetto dalla parte di dietro passo davanti alla maglia prendo il filo e me lo porto dietro e lavoro la maglia alta passo davanti alla maglia alta perfetto adesso dopo aver lavorato anche la seconda manica possiamo fare l'ultimo aumento raglan facendo sempre una maglia alta nello spazio due catenelle di separazione e di nuovo una maglia alta nello stesso spazio dopodiché dobbiamo lavorare la metà della parte di dietro lavorando una maglia alta in ogni maglia di base ormai sono arrivata alla fine della riga adesso vado a fare la penultima maglia alta dopodiché l'ultima maglia alta la farò entrando con uncinetto nella terza catenella iniziale della riga precedente e questa praticamente è la prima riga di aumenti ne dobbiamo fare altre 13 per questa taglia perché dobbiamo avere un totale di 14 righe di aumenti e adesso per iniziare una nuova riga giro il lavoro entro con uncinetto nella base nella maglia sottostante faccio una maglia bassa e due catenelle se vi trovate meglio con le tre catenelle per come vi dicevo all'inizio potete fare tranquillamente le tre catenelle di ritorno dopodiché lavorare una maglia alta in ogni maglia di base io vado in questo modo lavorando una maglia alta per come vedete in ogni maglia di base fino ad arrivare al primo spazio in cui farò di nuovo l'aumento raglan esattamente come vi ho fatto vedere nella riga precedente perfetto adesso dovete continuare in questo modo dopodiché nei vari spazi dovete fare l'aumento raglan facendo una maglia alta 2 catenelle una maglia alta nello stesso spazio dopodiché per quanto riguarda le maniche dovete lavorare la maglia alta in rilievo in ogni riga per avere quell'effetto rigato che avete visto nel vestitino nelle foto dell'anteprima per cui andate avanti così dopodiché nel prossimo spazio di nuovo l'aumento raglan poi le maglie della parte del davanti si lavoreranno a maglia alta normale di nuovo l'aumento raglan le maniche la manica l'ultima manica si lavorerà a maglia alta in rilievo e l'ultimo aumento raglan dopodiché l'altra metà della parte di dietro a maglia alta normale dopodiché l'ultima maglia alta si farà nella seconda catenella della riga precedente e vi ricordo che dovete avere un totale di 14 righe di aumenti ed ecco ho finito di lavorare 14 righe di aumenti e il risultato è questo adesso possiamo andare a separare le maniche iniziamo a lavorare esattamente come abbiamo fatto fino adesso giriamo il lavoro entrerò con l'uncinetto nella maglia sottostante faccio una maglia bassa 2 catenelle dopodiché lavorerò una maglia alta in ogni maglia di base fino ad arrivare al primo spazio e in quel momento possiamo andare a separare la manica la prima manica dal corpetto ed eccomi arrivata al primo spazio in cui andrò a realizzare una maglia alta dopodiché salto direttamente nel secondo spazio questa è la prima manica e vado a lavorare una maglia alta in quel spazio perfetto è così abbiamo separato la prima manica adesso faccio una maglia alta in ogni maglia di base lavoro praticamente la parte del davanti fino ad arrivare alla seconda manica che andrà separata esattamente come abbiamo fatto prima ed eccomi arrivata la seconda manica e per separarla faremo lo stesso procedimento di prima entrerò nello spazio e farò una maglia alta dopodiché salto tutte le maglie della manica e vado nel prossimo spazio in cui farò sempre una maglia alta dopodiché continuate a lavorare a maglia alta fino alla fine della riga una volta finito di separare le maniche è arrivato il momento di unire le due parti della parte di dietro le due metà per iniziare la lavorazione in tondo per fare questo entreremo con l'uncinetto nella seconda catenella iniziale che abbiamo fatto all'inizio della riga precedente e faremo una maglia bassissima dopodiché per iniziare questo giro faremo 3 catenelle 1 2 e 3 dopodiché vado a lavorare una maglia alta in ogni maglia di base e andate avanti così tutto intorno poi le maglie sotto braccio si vedono benissimo poi chiudete questo giro entrando con l'uncinetto nella terza catenella iniziale fate una maglia bassissima ed ecco come si presenta il tutto per adesso dopo aver lavorato il primo giro ne dobbiamo fare altri altri tre giri di maglia alte esattamente come il primo facendo sempre le tre catenelle iniziali andate tutto intorno poi chiudete con una maglia bassissima quando arrivate alla fine del giro entrando con l'uncinetto nella terza catenella io nel quarto giro andrò a cambiare il colore per come vedete io ho già cambiato il colore nel quarto giro questo è opzionale ovviamente per dare quell'effetto da come se fosse una fascia dopodiché possiamo continuare la lavorazione e in questo quinto giro andremo a distribuire dei aumenti in questo giro lavoreremo soltanto a maglie basse per cui ho fatto una catenella dopodiché la prima maglia bassa la vado a realizzare nella maglia sottostante per come dicevo anche prima dobbiamo andare a distribuire 12 aumenti per cui vi consiglio di scrivere su un pezzo di carta man mano che andate avanti con con la realizzazione dei aumenti affinché non realizzate né troppi ma neanche pochi e per come vedete per fare l'aumento si devono fare due maglie basse nella stessa maglia di base dopo aver fatto il primo aumento mi rimane da fare altri 11 per cui ovviamente li vado a distribuire man mano che vado avanti con la lavorazione di questo giro non bisogna farli neanche troppo vicini tra di loro per cui lavorate qualche maglia bassa dopodiché aggiungete un altro aumento io continuerò in questo modo e ci vediamo alla fine del del giro sono arrivata alla fine del giro e per chiudere entrerò con l'uncinetto nella prima maglia bassa prendo il filo e mi fermo in questo modo perché cambierò colore io ho già tagliato il filo prendo il primo colore con cui ho lavorato e lo passo attraverso le due maglie che ho sull'uncinetto dopodiché lavoro 3 catenelle per iniziare il punto a fantasia stringo bene i fili dopodiché nella stessa maglia di base andrò a realizzare una maglia alta con le 3 catenelle diventeranno 2 dopodiché farò 2 catenelle e di nuovo 2 maglie alte nella stessa maglia di base dopo aver lavorato il gruppo di 2 maglie alte separate da 2 catenelle saltiamo 2 maglie di base e nella terza facciamo una maglia alta e praticamente questo è il motivo che lo andiamo a ripetere fino alla fine del giro saltiamo di nuovo 2 maglie di base nella terza facciamo 2 maglie alte 2 catenelle e di nuovo 2 maglie alte nella stessa maglia di base poi saltiamo di nuovo 2 maglie maglie di base e nella terza facciamo la maglia alta e così via di nuovo saltiamo 2 maglie di base nella terza facciamo il gruppo di 2 maglie alte separate da 2 catenelle proseguite in questo modo fino alla fine del giro e siccome noi abbiamo iniziato con il gruppo di 2 maglie alte separate da 2 catenelle dobbiamo concludere il giro con una maglia alta ma non abbiamo contato le maglie per cui dobbiamo un po adattarci alla fine per cui in quel momento sicuramente non salteremo sempre due maglie ma forse di meno giusto per star dentro con una maglia alta ed ecco mi è arrivata la fine per come dicevo dobbiamo finire con una maglia alta ma mi rimangono soltanto tre maglie per cui salterò in questo caso soltanto una maglia di base nella seconda faccio la maglia alta e poi salto di nuovo la maglia di base vado direttamente a chiudere il giro entrando con uncinetto nella terza catenella iniziale e adesso per iniziare il secondo giro andiamo a fare una maglia bassissima nella prossima maglia di base perché dobbiamo portare il filo nel nello spazio che si è creato facendo le 2 catenelle di separazione anche qui faccio una maglia bassissima e poi posso iniziare la lavorazione del giro facendo sempre le 3 catenelle iniziali ma stavolta dobbiamo fare 3 maglie alte 2 catenelle 3 maglie alte nella stessa maglia di base vi ricordo che le 3 catenelle iniziali fanno da maglia alta per cui adesso devo fare altre 2 maglie alte nello stesso spazio per avere un totale di 3 dopodiché 2 catenelle e di nuovo un altro gruppo di 3 maglie alte nello stesso spazio dopo aver lavorato il gruppo di 3 maglie alte separate da 2 catenelle si è capito che noi dobbiamo fare in questo giro dei aumenti per dare quel volume alla gonna ma continueremo con gli aumenti anche nella maglia alta singola per cui ne dobbiamo fare due non li faremo in modo normale ma in rilievo davanti per cui entro con l'uncinetto esattamente come vedete prendo il filo lo passo davanti e lavoro la maglia alta dopodiché ripeto il procedimento facendo di nuovo una maglia alta in rilievo davanti sempre nella stessa maglia per ottenere due maglie così noi abbiamo fatto un aumento a parte il gruppo di 3 maglie alte separate da 2 catenelle dopodiché vado nel prossimo spazio e ripeto quello che ho fatto prima all'inizio per cui faccio 3 maglie alte 2 catenelle e di nuovo 3 maglie alte nello stesso spazio e adesso continuerò a ripetere questo questo motivo fino alla fine del giro adesso avvicino un po la videocamera finché si possa vedere bene come va lavorata la maglia alta in rilievo davanti per cui entro con l'uncinetto nella maglia alta singola prendo il filo e per come si può vedere il filo si attorcia praticamente intorno alla maglia faccio la una maglia alta dopodiché ripeto il procedimento per avere due maglie alte poi man mano che andate avanti con la lavorazione noterete che queste maglie in rilievo danno un effetto molto particolare alla gonna io continuerò in questo modo fino alla fine del giro ripetete sempre il gruppo di 3 maglie alte separate da 2 catenelle poi nella maglia alta singola lavorate 2 maglie alte in rilievo davanti e poi quando arrivate alla fine del giro chiudete entrando con l'uncinetto nella terza catenella iniziale fate una maglia bassissima sono arrivata alla fine del giro e volevo dirvi di non dimenticare di lavorare l'ultima maglia alta per cui prestate attenzione affinché non l'andate a saltare e anche qui lavorerò due maglie alte in rilievo davanti dopodiché posso chiudere il giro adesso ho finito di chiudere il giro e praticamente tutte le volte che dovete iniziare un altro giro fate una maglia bassissima in ogni maglia di base fino ad arrivare allo spazio che si è creato facendo le due catenelle di separazione e anche qui fate sempre la maglia bassa bassissima dopodiché fate le 3 catenelle iniziali e continuate la lavorazione esattamente come abbiamo fatto il secondo giro per cui altre 2 maglie alte con le 3 catenelle sono 3 maglie alte 2 catenelle di separazione e di nuovo 3 maglie alte nello stesso spazio e adesso vado nelle due maglie che abbiamo e lavoro una maglia alta in rilievo in ogni maglia per cui devo rimanere sempre devo avere sempre due maglie alte in rilievo davanti per cui in questo giro e da ora in poi per tutti gli altri giri non dobbiamo fare più nessun genere di aumento e adesso non dovete fare altro che ripetere questo motivo fino alla fine del giro ricordatevi che nello spazio che si è creato facendo le 2 catenelle di separazione dovete fare il gruppo di 3 maglie alte separate da 2 catenelle dopodiché le 2 maglie alte in rilievo per cui questo punto rimarrà invariato fino alla fine perché non ci saranno più dei aumenti per cui è una ripetizione continua giro per giro per cui io adesso vado avanti così e ci vediamo dopo e praticamente da ora in poi non dovete fare altro che ripetere il terzo giro per la lunghezza desiderata la mia gonna sarà leggermente più corta perché è soltanto una dimostrazione ma sicuramente la vostra sarà più lunga di quella che vedete nel mio vestitino ed ecco dopo aver lavorato per un po di centimetri io ho aggiunto anche il bianco ho giocato un po con i colori come si vede ma per il fatto che mi era finito il colore principale per cui ho dovuto arrangiarmi un pochettino però mi piace molto l'effetto per cui ovviamente voi potete farla un unico colore o giocare anche voi con i colori esattamente come ho fatto io adesso dobbiamo fare un'ultima un'ultima cosa rifinire la parte dei bottoni per cui prenderò il filo dello stesso colore del corpetto ovviamente e con l'uncinetto sul dritto del vestitino entrerò in questo spazio prendo il filo e faccio una catenella e man mano che vado avanti con la lavorazione nasconderò anche i fili dopodiché nello stesso spazio farò due maglie basse poi farò lo stesso in ogni spazio con altre parole in ogni riga dobbiamo fare due maglie basse per cui vado nel prossimo spazio e faccio due maglie basse grazie ed ecco come si presenta il tutto per adesso continuate lavorando sempre due maglie basse in ogni spazio poi quando arrivate nella base dove abbiamo unito le due parti della parte di dietro sarebbe praticamente la maglia centrale lavorate in quel punto le due maglie basse dopodiché nella maglia centrale lavorate soltanto una maglia bassa dopodiché proseguite esattamente come avete fatto fino adesso lavorando due maglie basse in ogni spazio per tutto il laterale ho finito di rifinire l'apertura e ho cucito tre bottoni nella parte sinistra i bottoni sono abbastanza piccoli affinché possano entrare attraverso i forellini che si sono creati facendo le due maglie basse nello stesso spazio ma prima mi ero dimenticata di dirvi che dovete andare a bloccare il vestitino io l'ho stirato perché ho lavorato con un filato di cotone è importante fare questo per distendere le maglie e questa è la parte del davanti ho aggiunto delle perline a posto della fascia per dare un tocco in più vi consiglio comunque di utilizzare delle perline che si possono cucire affinché possano resistere al lavaggio io ovviamente vi sto dando soltanto delle idee da qui voi potete sbizzarirvi come più vi piace e noi per oggi abbiamo finito spero che questo video tutorial vi sia stato utile se avete delle domande fatele pure nella sezione commenti e io con questo vi dico alla prossima ciao ciao